Ben ritrovati e ben ritrovati, l'invito è sempre lo stesso, qualora già non l'abbiate fatto e ci fosse il vostro gradimento, iscrivetevi al mio canale YouTube, attivate la campagna delle notifiche e lasciate un bel like, questa sera appuntamento alle 21 all'Allianz Stadium per Juventus-Stoccarda, un match importante, bello perché la Champions è sempre bella, seppur noi che abbiamo un ottimo feeling, specialmente per quanto riguarda le finali, ma non nascondiamoci, calcisticamente parlando viviamo esattamente per queste gare, più tardi arriviamo anche sulla probabile formazione, vediamo se ciò che ha provato ieri Tiago Motta verrà confermato meno, ovvero c'è la possibilità che potenzialmente potrebbe riposare qualche giocatore qua e là, ebbene sì, nonostante la coperta sia molto corta là davanti, considerando l'indisponibilità di Nico Gonzalez e Coppa Mainers, però ieri è stato provato un sistema di gioco che prevederebbe, bisogna sempre utilizzare il condizionale con Tiago Motta, la presenza dall'inizio di Wes McKennie, recuperato di Fagioli, che era un po' acciaccato per la gara con la Lazio, insomma, quando è entrato ha fatto vedere di avere le idee molto, molto chiare, ci sono possibilità che venga riconfermato Douglas Lewis, quantomeno ieri nell'assetto, secondo i ben informati, è stato testato lui, dietro Vlaovic, con alla sua destra, con Sesao e alla sua sinistra, il Diz, e dietro ci sono delle situazioni da monitorare, magari un turno, quantomeno minuti di riposo inizialmente per qualche big, ogni riferimento nei confronti di Andrea Cambias puramente voluto, e con Danilo che scalpita e dovrebbe giocare al fianco di Calulu, ma per quanto riguarda la probabile formazione, appunto, ne parliamo più tardi. A proposito di Danilo, devo dire che si sta dimostrando persona sempre e costantemente intelligente, seria, sappiamo, no, come di sua sponte, di sua volontà, stia cercando di togliere questa clausola, perché qualora lui allo statuale dell'arte dovesse giocare il 50% delle presenze complessive stagionali della Juventus, automaticamente scatterebbe un più uno. E Danilo, evidentemente, vuole pensarci bene e soprattutto non vuole che il suo futuro, la Juventus, sia condizionato unicamente da una clausola. Vuoi, per una questione di rapporti con il mondo Juve, vuoi per le legittime ambizioni personali. Non dobbiamo nasconderci, Danilo fin qui ha faticato molto. Mi è piaciuto il suo ingresso con la Lazio, anche in termini attitudinali, quindi significa che dentro mentalmente la squadra, e questo è di vitale importanza. Perché se invece inizi a staccare, se ti senti sempre di più un corpo estraneo, se inizi magari a fare qualche ragionamento sul mercato di gennaio, beh, quello potrebbe essere un grossissimo campanello d'allarme. E invece Danilo, nel suo ingresso con la Lazio, ha dimostrato di essere decisamente sul pezzo e soprattutto di cercare di scalare le gerarchie. Non è semplice, perché credo che, per come intende la difesa in generale Tiago Motta, Danilo non abbia proprio quelle caratteristiche, ma, io ve l'avevo detto il giorno successivo al grave infortunio di Bremer, Io mi aspetto che Danilo faccia tot, ottime partite, perché le può e le deve fare, a maggior ragione, fino a gennaio, quando poi la Juve interverrà e porterà a casa un difensore low cost, con intelligenza, con furbizia, magari con lungimiranza, cercando un'occasione, ma un difensore numericamente serve e arriverà. Quindi, il boost di fiducia con la Lazio è di vitale importanza, per il proseguo della stagione di Danilo, ma anche per le risposte che dobbiamo ottenere fin da subito, vedi la partita di questa sera, con lo Stoccarda. Però è confermatissimo che si stia lavorando per togliere questa clausola, d'altra parte Danilo ha il contratto che va in scadenza a giugno, e se dovesse andare tutto a dama ci sarebbe anche il giusto tempo per capire concretamente se e come la Juventus abbia bisogno ancora di Danilo e a tempo stesso magari anche il giocatore può decidere di tuffarsi a una nuova avventura professionale qualora non dovesse essere soddisfatto dell'impiego, dell'utilizzo. Si fa facile ironia su questo ragazzo che è molto serio e resta il capitano del Brasile, nonché, diciamo, dal punto di vista gerarchico, lo era nella passata stagione della Juve, quindi poi la fascia con Tecomotta è itinerante, basti vedere Gatti, basti vedere lo stesso Cambiaso, ma Danilo resta uno che nello spogliatoio, giustamente, ha un peso specifico notevole e non è mai stato un presuntuoso, non è mai stato arrogante. Danilo è sempre stato un personaggio positivo, poi il giocatore può piacere, può non piacere, ci mancherebbe altro, de gusti, gusti, siamo qui anche per disquisire dei nostri gusti tecnici, ma spero che oggi possa fare una grande partita perché se lo merita e perché basta niente poi per creare una scintilla e in generale far rivisitare la propria posizione, perché prima dell'ingresso con la Lazio sembrava che Danilo non potesse più giocare alla Juve per tot tifosi. Ora invece quei minuti lì danno energia, danno fiducia e molti, leggevo anche i commenti questa mattina sui vari social, sono propensi a dargli questa chance con lo Stoccarda. Quindi intanto però si lavora per togliere questa clausola. Questione anche di giorni per l'intesa totale che porterà Mattia Perina a firmare il rinnovo con la Juventus fino al 30 giugno 2027, ve l'avevo già raccontato, quando la Juventus ha bloccato Di Gregorio. La strategia era molto chiara, mettere la porta a Scesni, prendere Di Gregorio e rinnovare il contratto a Perin. Perché la Juve non vede un secondo portiere in Mattia Perin, vede un numero uno, Bis. E infatti, tra l'altro gioca lui oggi perché è squalificato Di Gregorio, Perin garantisce grande affidabilità ma soprattutto è un leader. Io vi invito a pescare qualche contenuto che ha fatto in estate di Juventus Clitor Lab, ora non ricordo i giocatori specifici, ma i nuovi arrivi alla continassa. Guardate lo spogliatoio, come si comporta e chi è uno dei primi, se non il primo in assoluto, ad accogliere i nuovi arrivati, far capire loro subito dove si trovi in generale, cosa significhi subito varcare quel mondo lì che è sacro e che poi ti porta a dire la tua con i colori bianco-neri. Quindi Perin non è solamente un portiere molto affidabile, ma è un personaggio importante, positivo, che ha fatto un certo tipo di percorso, anche a livello mentale, e che viene visto come un leader, un leader carismatico, vi garantisco che negli allenamenti uno che parla tanto, ma non solo perché il ruolo del portiere tendenzialmente impone anche dove andare delle indicazioni alzare i decibel, ma proprio perché Perin è dentro, è dentro totalmente il progetto e presto ci sarà questo accordo definitivo fino al 30 giugno 2027. Concedetemi la chiusura con Douglas Lewis, perché se dovesse essere confermata la prova di ieri, altro giro, altra partenza dall'inizio, credo che sia giusto, però lui deve darci di più. Anche con la Lazio, al netto le parole di Fabiani, mi sembra di essere stato piuttosto pepato nei confronti con l'educazione, spero, del dirigente a Lazio. Devo dire che Douglas ha rischiato, quindi immaginiamoci se il trittico, no, composto da Lipsia, Cagliari e Lazio avesse proposto due rigori e un'espulsione con chiamata VAR, insomma. Douglas deve stare più dentro, più dentro con la testa, capire i momenti, non farsi prendere dal nervosismo né dalla frenesia, ha la fiducia dell'ambiente, se anche oggi gioca titolare vuol dire che anche quella di Thiago può farci una bella performance, può darci qualità, ma rimanere dentro la partita. Tra l'altro ho rivisto anche l'occasione, i test avrebbero potuto fare meglio, ma continuano a pensare che non fosse così semplice come pensiamo. nel secondo tempo con la Lazio. Noi abbiamo bisogno di riferimenti, di dare brio alla manovra, di dare qualità, di dare superiorità numerica, di dare superazione anche territoriale. Douglas ha tanta qualità, sta anche imparando a fare delle buone cose in fase non possesse, si è sacrificato con la Lazio, questo è un ottimo atteggiamento, ma serve di più da parte di tutti, ma in particolar modo in questa fase di Douglas che si deve prendere la Juventus. A più tardi, per la probabile formazione, poi come sempre ci vediamo dall'esterno dello stadium per analizzare assieme Juventus Toccarda, per i tanti che me lo chiedono, mi fa sempre molto piacere, io bazzico la zona gate B, prima dell'inizio del match, due o tre ore sono sempre lì, pregala, quindi qualora aveste voglia. Mi trovate e facciamo cordialmente sempre due chiacchiere.